Sono Stefania Giannino di Nobile 1942 e attualmente ho l'incarico di presidente dell'associazione Caterina De Medici che è nata insieme ad altri due brand italiani Xergioff e Gritti. L'obiettivo dell'associazione è quello di riunire tutte le aziende come noi che nell'arco di questi anni hanno lavorato per diffondere la profumeria italiana di qualità, la profumeria artistica nel particolare. Un'azienda per entrare nell'associazione deve avere sede in Italia. Il suo prodotto deve essere almeno al 50% costituito da materiale italiano, made in Italy, e per l'altro 50% made in Europe. Il suo prodotto non deve essere una copia, sia a livello di packaging che a livello di prodotto. Siamo quasi tutti artigiani e quindi produciamo quasi a mano materie prime naturali, tantissima creatività perché questa è una forma d'arte a nostro avviso. L'obiettivo dell'associazione Caterina è proprio quello anche di aiutare il consumatore nella scelta. All'interno di questa associazione le aziende che vi faranno parte avranno un sigillo posto sul packaging del prodotto e questo sigillo consentirà di capire se effettivamente questa azienda ha superato tutta una serie di esami. La qualità del prodotto è giudicata chiaramente da una commissione di valutatori che operano in questo ambito da diversi anni e che sono case fragranziere oppure addirittura nasi. Anche in Francia hanno costituito un comitato che oggi ha già 14 associati. Quello che sicuramente vorremmo fare è rappresentare al meglio la profumeria italiana qualitativamente parlando perché a nostro avviso c'è una certa specificità del prodotto italiano rispetto agli altri soprattutto in termini di creatività, di innovazione. Grazie 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 Grazie